Salve signor tizio, ci canti una bella canzone di Natale Ok siamo andati un po' off topic Andiamo a registrare un bel video signor tizio, le va bene? Si Ok Ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in compagnia di una persona strana Che avete già visto nel mio canale con un bellissimo Egg Wars E questa volta ci troviamo in un server molto tedescan E andremo a registrare un lucky battle, un lucky block battle in compagnia Cos'hai detto a mia madre? Ragazzi tanti beh mi piace e per tanti intendo tipo qualcosa come 9999 E ciao Ma tu parli veramente il tedesco? 9 Because English is better Infatti 9 cos'è tipo il 9 9 No in realtà 9 si dice 9 9 in inglese 9 in inglese è 9 9 9 Parli in tedesco? 9 9 9 9 Ok Ciao signori Vabbè tanto l'intro l'ho già fatta quindi Allora lui praticamente spacchetto e devo pregare in Dio Esatto Devi fare gli spacchettamenti No non puoi uccidere nessuno Siamo tutti amichetti in questa lobby Uh se trovi John Cena uccidilo È un coniglietto molto figo e molto carino Che saltella con gli occhi rossi Erobrain ho paura Ecco ok Erobrain non ti dà quasi nulla La voglio portare le volte Io vorrei cercare di uccidere John Cena Vi togliete dalle p... Che io muoio adesso Sì muori per sempre Quindi non morire Ah No non è vero Ti sto trollando Non è vero Eh questo qua Ok ma perché iniziate con... Eh mi spiace Ma io come esco? Ho dell'ossidiana Ehm Ho della TNT Ho dei corpetti Io sono bloccato per sempre Ma cosa? No non sono bloccato per sempre Mentivo Oh c'è un treno Oh Oh mio dio signor tizio Io ho trovato un treno di minerali Ah ma mi ha creato un labirinto Oh Qua può succedere veramente di tutto Per cui fai attenzione a chi Spacchetti A cosa spacchetti A chi incontri A chi cerchi di uccidere Perché potrebbero essere 150 volte più forti di te Quindi fai attenzione Hmm Caro tizio Cerco di equipaggiarti al meglio Armatura è una bella spada citrigna E ammazzi tutti Esatto Io c'ho 9 diamanti Quindi se vuoi possiamo tipo condividere Ah se vuoi Puoi anche rubare diamanti all'altra gente Ok perfetto Che vuoto Brutto maiale Tra un po' Eh tra esattamente 4 minuti Ma io c'ho un maiale Che cerchi di... Cosa sei mio fratello? Brutto maiale schifoso Eh sarà mio fratello arrabbiato Ma fai con te veloce Sì se hai problemi Puoi anche buttarti fuori dal mondo Non importa Esatto Infatti è quello che sto facendo Adesso i silverfish ammazzino gli altri player Mio dio quanto odio i silverfish Esatto Infatti adesso stanno ammazzando gli altri player Lel Ok perfetto Adios Sean e Welth Colui che osserva 2016 Ho vado a sponare per sbagliare il Wither Cosa? Ho vado a sponare un Wither? Il Wither Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Sta diventando notte E tra un po' moriremo male tutti Wow Ho trovato dei protection 5 Dei piedini protection 5 Mio dio Mio dio Esplodi coso Eh il Wither adesso probabilmente ci farà la bua a tutti quanti Esatto Eh tu chi sei? Cosa sei? Cosa vuoi? È un endermite Ho fatto per sbaglio cose brutte Oh un golem C'è un golem Cosa fa questa roba? Facciamo amicizie golem Io non ho trovato un cazzo di utile Fireball massimo Eh delle fireball sono buone Ci catturi i pokemon Eh ma guarda io sto uccidendo un endermite full diamante che tiene un blocco di diamante in mano ma non so quando riuscirò a ucciderlo Oh C'è il mio golem che sto combattendo contro un tipo Cioè non mi ha dato veramente nulla Io c'è Giunzina Giunzina uccidilo ti può dare una spada pazzesca la spada di Giunzina Non era un Giunzina era un turco Era un turco? Credo Però ho una zeta con un sharpness 3 Muori madonna quanto odio l'endermite Muori Abbiamo due minuti rimasti caro tizio E io non ho una spada ancora Io c'ho un golem che mi difende Che top Non ti difenderà mai Oh guarda vedo il tuo Wither Uh Corpetto in diamante Perfetto Uccidio il mio Wither Oddio qua è esplosa tutto anche Madonna Mi consigli di fuggire Fuggisco allora Fuggisco Fuggisca Fuggisca Fuggisco per bene Cioè il mio scopo quindi adesso è ammazzare gli altri Beh si tendenzialmente è un po' lo scopo di tutti su Minecraft Ok Tra due minuti inizia Mh ho trovato un lucky dare Capitano Jack Sparrow Oh Io adoro Jack Sparrow Anche io Hai fatto bene a chiamarlo capitano Tutti se lo dimenticano ogni volta Esatto Maledizione Povero Anche lui è un'anima Esatto Non è vero in realtà non ce l'ha perché l'ha data a Davy Jones Esatto E stiamo spoilerando i film A tutti quanti Allora Signor tizio Mi dica che lei ha un'armatura decente per fare un bel pvp finale Qualcosa Giusto per sport Ah per sport va bene Tipo Una tuta adidas Un corpetto Con Spread To love Una roba strana Spread to love Sì È una corpetta in pelle rosa E poi c'è un tipo che qua ucciderò appena a parte del minutaggio Il minutaggio Mi piace Mi piacciono questi termini molto Mioventosi Molto aulici Esatto Allora A me l'unica cosa che manca È un bellissimo elmetto Perché sono full diamond Non so come Perché ti assicuro che non sono mai così fortunato Nei lucky block Però Ma oggi sì Oggi sì esatto E tu spawni i wither Io quasi così Ma se io uccido il wither Cosa mi dà Droghe Droghe Allora lo vado a uccidere subito Ma è già morto Ah no è qua eccolo Ciao wither Come Teoricamente è nulla di buono No no Ok questo qua c'è una spada in diamante della madonna Io lo voglio No niente Non riesco a uccidere Non riesco nemmeno a infliggerli un cuore Tizio io non ti vedo Dove sei Sono una mamma preoccupata io Con la spada in diamante della madonna Ho un po' di corpetti Ho trovato un pezzo di armatura Random Per terra Grazie Gesù Ma sei tu questo No questo non sei tu Questo è Un altro tizio con la tua skin Simile Ok 20 secondi E verremo teletrasportati nell'arena tizio 20 secondi Ah adesso andremo in un'arena Esattamente E ora sono pantofole Senza zucchero Sei pronto? A quanto inizia il codo paura? Tra adesso Tra adesso Tra adesso Non ho cibo Mi sono dimenticato la cosa più importante del mondo Il cibo Esatto Non sei l'unico Vabbè ucciderò il primo pirla E sai che c'è un problema Ehi Quando uccidi la gente Non ti droppano niente Ma com' Niente Niente Cazzo Già Ok va bene Quindi io devo fare Tutto quanto Con un salmone Un pesce crudo E un pollo crudo Che schifo è Adesso io combatto Uno contro uno Contro qualcun altro No adesso sei Nelle qualificazioni Quindi è un uno contro uno Contro uno E questo mi ha appena spinto Nella lava Cioè nel fuoco Come ti permetti Muori Brutto cretino Come osi Io sono Kendal Il possente Il grandissimo Il magnifico Le TNT non le puoi usare No non puoi usare Praticamente nulla Non puoi piazzare blocchi Non puoi rompere blocchi Dove cavolo è il mio ultimo avversario È dietro di me Uè Ciao amico Frizz Come sta Oh mio dio Toglio un casino Per fortuna l'ho ucciso Pantofole Sì Quindicesimo Dai Dai almeno si è arrivato In top 15 Su 20 Ricorda Che se tu credi Nel cuore delle carte Se io vinco Io credo sempre Perfetto Se vinco anche solo io È come se abbiamo vinto entrambi Esatto Ah no Ho vinto a tavolino Hai già vinto le selezioni dopo? Sì Tra un po' arrivo in semifinale Ho vinto a tavolino Così Perché Il server mi vuole bene Il gioco ti vuole già bene Adesso si combatte Veramente Sono contro Mano Manox Eh vero io non ho cibo Porca miseria Come faccio? Mi sacco un braccio e me lo mangio Ma come? È una bella cotoletta La vedo La vedo La vedo Come è messo? Sei il maialino indiamantato Eh io sono il maialino indiamantato per bene E mi sa che ha un strano blocco con intantesimi Sì avrà qualcosa come Firehust No Porca miseria C'è tipo sharpness qualcosa È sharpness Eh sì Però io riesco a uccidere lo stesso credo Spero Per favore Sì Allora Sì che stai bruciando Ah bella Ok Finale Sono in finale La grande sfida Adesso c'è la grande sfida Super crafter contro colui che osserva La finale E io c'ho solo un pollo Ah no C'ho anche un pesce C'ho Un occhio di ragno E la testa di Aerobrine Ok Può vincere Io credo nel cuore Allora Se io faccio un 360 Mentre mi mangio il pollo crudo Non mi avvenendo Guarda Facciamone più di uno Eh Hai visto che ha funzionato Esatto Ok È stato proprio per il 360 I trucchi belli I trucchi di Minecraft Di Minecraft Le hack Il 360 Mangiando un pollo crudo Qualcosa non ti avrei Cacchio lui è È enchantato Eh lui è enchantato forte Ma io sono più forte Quindi Vieni qua e muori Ti faccio adesso Le scarpe ti faccio Perché io sono Kendall E io non posso perdere Io non perdo mai Nella mia vita Non è vero In realtà perdo Perchie volte Però Tu Adesso Verrai Eliminato dal potente Posente Che è Mio Dio ma quanta vita Quanta vita Oh Signori Senza cibo Tizio 20 applaude Intanto grazie 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 Senza cibo Signori Siamo riusci È troppo facile Per me vincere Troppo facile È troppo facile È troppo bravo Kendall Sono troppo un dio Bianconata Stem Guarda Guarda ti sei accorto di una cosa Tizio È Natale No Sopra di noi c'è il vischio Questo significa che No ti prego Dobbiamo Tizio dobbiamo Tizio non scappare Tizio vieni qua Non hai le tette Ma come no C'ho pure i capezzolini Guarda che bello Ragazzi io spero Vi sia piaciuto Staremmo facendo un altro Ti togli Fuori dai Cavessones Ok Spero È un altro Sonic Sì Siamo Bravo Spero vi sia piaciuto Questo video In compagnia di Tizio 20 Questo video bello Natalizio Anche se ancora Non siamo a Natale Dub Dub Ok ragazzi Lasciate un bel mi piace Per questo video Se ne volete altri Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Se non ne volete altri Invece Andate a iscrivervi Al canale di Tizio 20 Dite che vi ho mandato io Perché troverete il suo link In descrizione Quindi in ogni caso Vinciamo tutti Praticamente Tizio non mi ha voluto baciare Quindi sono offeso